Musica Ben trovati da Gerardo Paterna per questa nuova intervista su ReTV. Oggi parliamo di innovazione nelle aziende, parliamo di tecnologia, parliamo di digitale, lo facciamo con un ospite che davvero ne sa parecchio sul tema, abbiamo in studio infatti Stefano Mizzio, cofondatore di Innovis Lab e responsabile del programma di mentorship del Poliav Politecnico di Milano. Ciao Stefano, grazie per essere qui con noi. Allora Stefano, andiamo subito al sodo. Ci racconti brevemente cosa fai come imprenditore e cosa fai nell'ambito del programma di mentorship del Poliav? Quello che facciamo è lavoriamo al 100% con le start up e con le aziende interessate a fare innovazione, questo è il nostro core business. La start up è qualunque progetto che abbia un rischio, un rischio di tecnologia o di mercato o entrambi e quindi è un progetto tradizionale, quindi una start up piuttosto che un progetto che nasce all'interno di aziende consolidate che decidono di fare innovazione. Ok, tu hai spesso a che fare con aziende molto molto importanti, noi invece nel settore immobiliare abbiamo aziende importanti ma che non sviluppano magari capitalizzazioni particolari che non hanno economie di decine di milioni di euro ma magari di qualche milione quando va bene. A queste aziende che sono praticamente di matrice anni 80-90 legati alla figura dell'imprenditore più classico italiano che tu possa immaginare ma che ha bisogno di fare innovazione nel settore dei servizi. Andare a parlare di open innovation anche se è un tema attuale e si fa sempre molta fatica su un piano culturale, che tipo di approccio suggerisci? Fare innovazione è sostanzialmente principalmente un tema di cultura, di conoscenza reciproca, quindi quello che suggerisco ed è quello che facciamo è proprio quello di creare un ponte tra questi due mondi. Questo è oggi l'elemento di maggiore difficoltà, devo dire non soltanto in Italia, quindi generalizzo anche ad altre parti sia in Europa che dall'altra parte dello cielo. Oggi c'è questo bisogno di contaminazione, è un'esigenza primaria, è un'esigenza di sopravvivenza delle aziende che hanno bisogno di innovare. Quindi conoscere è il primo passo che io consiglio di fare. Lavorare con una start up non è facile sicuramente perché ha processi diversi, tipicamente una start up è agile, non ha quella sovrastruttura necessaria per aziende consolidate, per creare ricchezza, ma dall'altro lato ha la capacità di fare veramente innovazione, di guardare avanti, di applicare, trovare o sfruttare tecnologie esistenti magari con modelli di Vesas, quindi modi nuovi di creare ricchezza. Quindi il consiglio che vedo è quello proprio agli imprenditori interessati di cominciare ad entrare in contatto con questo mondo. Ti rispondo anche sul fronte degli investimenti, delle somme, lavorare con una start up è un modo per ridurre il rischio, anche perché la start up può fare innovazione per conto di altre aziende, per conto di imprenditori che sostanzialmente riducono il rischio a misura in cui collaborano piuttosto che comprare direttamente l'intera azienda. Anche il modo di entrare nel capitale di una start up, anche qui vorrei sfatare un mito, non servono somme gigantesche, soprattutto nelle fasi iniziali, quelli che noi chiamiamo nel nostro mondo di seed, di seme, di preseme, stiamo parlando spesso di investimenti che possono anche andare dai 30-40 ai 150-200 mila euro. Quindi questo per dare un ordine di grandezza a chi ci ascolta. Quindi creare occasioni di conoscenza reciproca, credo che questa sia oggi la sfida che personalmente cerco di indirizzare quotidianamente. Quindi anche nel mondo dei servizi quello che stai dicendo è sicuramente avere una solida e viva curiosità, questo è di base. E anziché pensare alla ricerca e sviluppo come a, diciamo così, un'attività, un ramo di attività dell'azienda che comporta assunzione di personale, praticamente investimento su progetti interni che magari non approdano nulla e non producono fatturato, tema sul quale l'imprenditore è sempre molto molto attento, dice attenzione c'è un'altra possibilità, la contaminazione. Quindi avviciniamoci alle start up che sviluppano tecnologie che possono in qualche modo essere collegate anche a determinati settori vicini all'azienda dell'imprenditore quindi e investiamo su queste, perché questa potrebbe essere la strada. Io so che tu hai due esempi anche se sono aziende importanti, però magari vale la pena citarle. Assolutamente sì, posso raccontarti due progetti che Poliab sta portando oggi avanti, riguardano uno un ambito legato al cosiddetto life science, quindi quello delle biotecnologie, Biohub, perché è un percorso di accelerazione con dietro nomi importanti come Novartis e Fondazione Carico, quindi un caso concreto in cui una grande azienda come Novartis decide di fare opera innovation, quindi di aprirsi, di raccogliere spunti, idee che provengono non dal classico, dal recinto tradizionale della ricerca e sviluppo interna, ma affidandosi sostanzialmente a quello che è il capitale di conoscenze, di competenze, di tecnologie che sono al di fuori dei confini tradizionali aziendali. Quindi questo è un caso concreto con cui Poliab sta lavorando. Dall'altro un altro caso, per esempio il mondo dell'Energy, un'altra iniziativa Next Energy di Terna, quindi anche qui un nome importante, anche in questo caso con modalità devo dire abbastanza simili, un percorso di accelerazione che nasce dalle stesse finalità, quello di utilizzare il potenziale presente in idee, in imprenditori, in start up per fare innovazione, quindi è un modo per estendere il proprio dipartimento di ricerca e sviluppo ben oltre quelli che sono i confini e i vincoli tradizionali di un'azienda, quindi due casi direi attuali e concreti di Open Innovation in Italia. Ok, come fa l'imprenditore di provincia, l'imprenditore operoso magari dell'Abrianza, dire ok mi interessa esplorare questo mondo, concretamente a quale campanello deve suonare? Guarda, adesso ti direi, oggi l'informazione credo che sia abbastanza semplice, siamo sommersi da informazioni, quindi è difficile avere questo problema, se vuoi puoi veramente trovare i canali giusti, nel caso di PoliHub direi che è abbastanza semplice, interagire e venire a contatto con noi, ma oggi in Italia ci sono tanti altri soggetti che lavorano con incubatori e acceleratori, per esempio col mondo delle start-up. PoliHub, essendo il secondo incubatore universitario d'Europa, il quinto al mondo è sicuramente un soggetto, direi abbastanza autorevole, che si muove in questo mondo con logiche, ad esempio come ci citavo prima nei progetti con il BioHupper e di Next Energy, quindi suggerisco di accedere a questo mondo attraverso chi lo fa per vestire, come ad esempio PoliHub. Quindi anche nei servizi, nel real estate, innovare è necessario perché se non ci pensate voi ci penserà poi alla fine qualcun altro, giusto Stefano? Assolutamente sì, purtroppo oggi devi correre quasi per rimanere fermo, quindi devi veramente correre tanto, il mondo corre una velocità incredibile, la tecnologia ormai è pervasiva, il software è praticamente dovunque, quindi oggi le aziende hanno veramente un bisogno vitale di presidiare con modalità nuove, senza neanche fare grandi investimenti iniziali, quindi è un invito a contaminarsi, è un invito a venire a contatto con un mondo che è quello dell'imprenditoria, con l'imprenditorialità delle start-up tecnologiche che sicuramente possono dare tanto e dall'altro ricevere anche tutto quello che è il bagaglio di competenze, per esempio l'accesso ai canali commerciali, la customer base che invece è un'azienda tradizionale può portare, quindi è una situazione che gli inglesi direbbero win-win, in cui entrambi i soggetti non hanno che da guadagnare. Benissimo, grazie mille Stefano Mizzio che salutiamo a tempo scaduto, un saluto anche da Gerardo Paterna per RTV, ci rivediamo in occasione della prossima intervista, a presto. Grazie.